L'ormai famigirato svincolo della Gammarana dell'8-0 sarà completato a inizio 2016. La conferma è arrivata dalla ditta incaricata dei lavori. Per far ripartire i lavori dello svincolo, ha spiegato il primo cittadino, è stata necessaria una conferenza dei servizi tra ANAS, Strada dei Parchi e Comune. Poi sono state avanzate anche altre situazioni relativamente agli espropri. Allora, agli espropri il progetto esecutivo prevedeva 600.000 euro. Poi è stato necessario un arbitrato che noi abbiamo accolto favorevolmente e l'arbitrato ha deciso che gli espropri sono passati da 22 euro a 48 euro. Quindi siamo passati da 300.000 a circa un milione di euro e anche qualcosa in più. Nel quadro economico sono comprese tutte quante le spese, compreso anche l'accordo che stiamo già trovando con l'impresa per quanto riguarda le riserve. Ma l'esponente del Partito Democratico, Maurizio Verna, carte alla mano smentisce il sindaco Brucchi mostrando il quadro economico del cantiere e annuncia che lo svincolo dell'8-0 della Gammarana finirà in commissione di garanzia. Dove sono i soldi per pagare i danni all'impresa? Ricordiamo che via ufficiosa, quello che io so, l'impresa ha chiesto 1.800.000 di danni per il fermo di quasi sei anni del cantiere. Siccome il quadro economico è questo, della delibera 339 del 7 agosto scorso, dentro di questo quadro economico, oltre ai lavori di 1.200.000 euro quasi, ci sono, insomma, a disposizione dell'amministrazione i soldi per le spropie, cui il sindaco dice che sono passati da 600.000 a 1.100.000, invece sono passati da 180.000 a 1.080.000 euro. Poi abbiamo i fonti di incentivazione, spese tecniche, i collaudi, l'IVA sui lavori, l'IVA sulle spese tecniche, proprio i liberatori. Non ci sono soldi che giustificano il pagamento per i danni per le imprese.